non ho trovato niente, torno in posizione ricerca nemico annullata, riprendere pattuglia normale contatto nemico confermato, inviamo subito un'unità dobbiamo trovare il niente è niente avvistato concentratevi attivarlo, attivarlo muovendì vado eccolo, all'attacco, muoversi ricordate la destra, metto la destra sto cercando il nemico qualcuno vede il bersaglio che male uscite o essere uccisi provato via no copritemi proviamoci muoviti abbattiamolo bersaglio trovato mi muovo attenzione, attenzione quel bersaglio va eliminato contro e si chi muoversi Cavolo! 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 Sì, non è vero. Grazie a tutti. 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 Andiamo. Grazie a tutti. 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 ... ... ... Grazie a tutti. ... ... ... ... ...... ... ... ...... ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ... ... ... ... ...... ... ... ...... ...... Grazie a tutti 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 Piano B La cattiva notizia è che dovrai addentrarti molto di più nella base E quella buona? Potrai guidare una nave da guerra? Tengono una delle navi al sicuro in un approdo sotterraneo Ti indico un ingresso Non male? Oh, ok, 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 ok... Sì. Sì. Allora. Ok. Sì. 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 Ah. Sì. Sì. Cerco un riparo! Contatto! Versaglie individuato. Oh 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 Nessun altro attacco nemico Occhi aperti per nuovo contatto Nave acquisita Devo solo aprire le porte Nemico nell'area operativa Roger intruso in zona Tutte le unità all'attacco Ho fatto uscire la nave dalla grotta Perfetto Rico Portala fuori dal canale All'area di manutenzione Questo cannone non è niente ma Lo so Ci farà comodo averne uno a disposizione Da lì potremo scansionare la nave E indiare i suoi diagrammi Perfetto Rico 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 Grazie a tutti. 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 E tu cosa fai? Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.